L'applauso è diventato un boato quando Elio Proc, il conduttore della cerimonia di premiazione del 44esimo torneo Città di Arco del 33esimo premio giornalistico dedicato a Beppe Viola, ha accolto Luca Toni sul palco con questa frase finalmente un campione del calcio con una pettinatura normale Belle le motivazioni, come sempre tanto affetto, è l'ennesimo premio di una lunga carriera Sì, bello riceverlo, è stato un bel premio, sono contento, soprattutto riceverlo dopo una bella vittoria lo ricevi anche molto più volentieri, quindi tutto a posto Prima di chiederti un'altra cosa su di te, un pensiero, i ragazzi dell'Elasa sono stati sconfitti in finale dalla Juventus però c'è il miglior giocatore del torneo, questi ragazzi guardano anche te per il loro futuro È bello, perché il Verona si vede che sta lavorando bene, perché viene da una primavera che ha perso il Vioreggio in finale Gli allievi hanno perso contro la Juve qua, quindi penso che c'è un bel settore giovanile quindi è giusto che il Verona conti molto sul settore giovanile, che penso che sia il futuro delle società come il Verona Cosa vuol dire per te essere il migliore marcatore italiano della Serie A? Per me, io sono contento, però è chiaro, bisogna chiedersi un po' dove sono finiti gli attaccanti italiani quello penso che è importante, penso che magari se ne mancano l'appello alcuni e forse perché ne giocano sempre meno, ed è un problema, un problema del calcio italiano perché penso che la conseguenza maggiore ne ha la nazionale abbiamo visto negli ultimi apparizioni della nazionale, ha un mondiale andato fuori al primo turno quindi bisognerebbe un po' più valutare certe regole, magari ritornare un po' come una volta che magari ci siano più italiani, perché se i giovani non li fai giocare è impossibile che fanno gol e se tu vai a vedere nelle squadre più forti non c'è un italiano che gioca E se provasse Conte a chiamarti? No, vabbè, la prossima? Intanto però chiamerà qualche nome nuovo, tipo Valdifiori, c'è questa nazionale dei due V, Verratti, Valdifiori insomma, qualcuno c'è? Ah beh, qualcuno ci deve essere per forza, perché in campo ci devono andare in undici quindi, no, dispiace perché ho visto contro il Napoli, anche degli italiani ce ne sono pochi in campo penso nell'Inter non è che ce ne siano tantissimi l'unica è la Juve che comunque ha uno zoccolo duro italiano, ma uno zoccolo duro di quelli giusti da Buffon, da Pirlo, da Chiellini, tutta gente che sa cosa vuol dire la nazionale e sa cosa vuol dire indossare la maglia della nazionale però anche nella Juve non c'è un attaccante italiano e quindi è un problema quindi da qualche parte li devi prendere e finché non ne giocano penso che il mister Conte farà fatica a trovare degli attaccanti forti che possono reggere anche le pressioni di una nazionale perché quando giochi in nazionale sicuramente hai tanti più pressioni rispetto a un club I più convinti nel tributo al bomber dell'Ellas Verona erano proprio i più piccoli e le ragazze del torneo femminile le nuove generazioni insomma a di là di queste considerazioni l'arrivo di Luca Toni al quale la giuria del premio Beppe Viola ha voluto dedicare un riconoscimento speciale per essere un campione in campo e nella vita è stato il momento clou dell'intensa serata nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Arco che chiude con le premiazioni questa importante rassegna internazionale del calcio giovanile Il coordinatore, dottor D'Amato, ha poi chiamato sul palco i vincitori del premio giornalistico Beppe Viola Alessandro Bonan, uno dei volti più noti di Sky Emanuele Dotto, storico inviato di Radio Rai e Francesco De Luca, responsabile dello sport de Il Mattino di Napoli Lunghissimo poi l'elenco dei premiati i dirigenti trentini dell'AIA e Dino Tommasi direttore di gara del CAN di Serie A che ha arbitrato la finale e poi altri giornalisti Manuel Codignoni della Rai di Trento al quale è andato il premio De Martino Maurizio Di Gian Giacomo per il giornale Trentino al quale è andato il premio in memoria di Bruno Cagol La palma di miglior allenatore regionale è toccata quindi a Giuseppe Endrizzi selezionatore della rappresentativa giovanissimi del Trentino Spazio ai Pulcini per premiare l'Abano Calcio lo Juventus Club di Bolzano l'intrepida di Verone e il Pescantina cioè le quattro squadre che hanno dato vita alla finale dei Pulcini Cambiamo pagina per arrivare al torneo maschile Under-16 con l'Atalanta che ha vinto il premio Fair Play mentre la palma di miglior giocatore del torneo è andata all'esterno basso mancino dell'Ellas Verona Andrea Badan e allo Juventino Fabio Morselli con tre gol quella di tiratore scelto per la manifestazione sul palco infine le due squadre finaliste con i bravissimi ragazzi dell'Ellas Verona di Andrea Vitali che hanno ceduto solo nel finale ad un gol di Arras che ha promosso la Juventus al settimo successo di questo torneo come nessun'altra 120 anni di Usarco e l'Usarco organizza anche il torneo Beppe Viola da tantissimi anni è un torneo che ormai è famoso è un impegno che comunque dà molte soddisfazioni direi di sì insomma tenendo conto che in questi 44 anni sono passati qualcuno fra i più grandi giocatori d'Italia insomma soprattutto però noi speriamo che passino uomini cioè gente che poi vince nella vita non solo sul campo il torneo è sempre una cosa difficile da organizzare però c'è da ringraziare tutti gli enti che vi aiutano ma diciamo che c'è da ringraziare tutti gli enti che ci aiutano perché sicuramente questo dà anche lustro alla nostra comunità e poi dobbiamo ringraziare veramente una schiera enorme di volontari che poi fanno parte delle società che teoricamente sono nostre concorrenti però il Beppe Viola le rende tutte quante diciamo solidali perché l'obiettivo è quello di promuovere un territorio e di promuovere anche una mentalità che non è quella certo del professionismo ma che è quella della ricaduta sociale Franco Viola da 44 anni è cuore e mente del torneo è sempre una grande soddisfazione organizzare questo torneo beh un grande lavoro un grande lavoro mio e di tutto il mio gruppo un grande problema anche finanziario ma diciamo che alla fine il premio è grande è veramente grande perché l'entusiasmo che abbiamo visto questa sera nei giorni scorsi vedendo le partite non c'è niente che li ripaga Il futuro del torneo? Beh il futuro noi cerchiamo di tirare dritto sono che ci sono problemi economici e speriamo che visto anche questa manifestazione vista dai vari politici dagli vari amministratori capiscano che devono aiutarci io non nego che abbiamo un buon aiuto sia dal comune, dalla provincia dalla Cassa Rurale dal BIM e di tante altre associazioni che ci danno una grossa mano però la spesa è veramente grande però è una manifestazione che ritengo vada sostenuta e mantenuta perché se ha durato 44 anni penso che meriti anche un proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti